Lezione numero 5, il muro con Ilaria Garzaro. Il muro è un fondamentale che viene utilizzato per intercettare la palla che viene attaccata dall'avversario. Braccio disteso sopra la testa e davanti al viso, ma i pollici si toccano. Le mani non devono toccare la rete. A volte è preferibile un salto non esagerato in quanto la caratteristica del muro è l'invadenza. Ciao a tutti!